Ci volevano con la terza media il titolo del resoconto personale di Giovanni Barrozzino, uno dei tre operai licenziati nello stabilimento Fiat di Melfi in seguito allo sciopero che per più di 70 ore bloccò la produzione della fabbrica Potentina nel luglio del 2010. Barrozzino ha raccontato la sua storia ieri a Macerata presso l'Aula A del Dipartimento di Filosofia in occasione di un incontro organizzato dal Movimento Studenti di Macerata in collaborazione con Fium CGL. Adesso noi siamo praticamente licenziati da quattro mesi da luglio e siamo senza stipendio però il paradosso è che non siamo più sabotatori e allora qualcuno ci deve spiegare qualcosa non quadra in tutto questo. Ecco io sono il vero motivo di questo mio diario, io non voglio nemmeno dirlo che è un libro e raccontare che così non si può più andare avanti. C'è una situazione assurda in Italia, ormai forse non solo in Italia e che secondo me tutti insieme a partire dai futuri lavoratori, cioè i studenti, tutti, dobbiamo unire le forze per combattere queste ingiustizie perché così non si va da nessuna parte. Emblematico l'episodio di Barrozzino e compagni ad oggi vittime di una situazione di fatto in cui la proprietà dell'azienda rimane paradossalmente tutelata anche dall'applicazione del diritto lavorativo. Situazione questa che ricorda da vicino la triste vicenda dei 125 operai della Best di Montefano. Il rapporto con Giovanni Barrozzino è sempre stato questo, lui ti costringe alla realtà e ti racconta le condizioni reali di lavoro. Abbiamo sempre detto che quello che stava capitando alla Fiat non era così distante anche dalla nostra realtà e mai come oggi con quello che è accaduto alla Best ne è l'esempio. Infatti sono venuto apposta per portarsi la nostra testimonianza per, non devo confrontarla o paragonarla, però come questo mondo purtroppo che ci accomuna del mondo del lavoro ci sono delle situazioni che sono al di fuori di qualsiasi logica a volte.